Abbiamo quindi programmato una serie di interventi che ci permette di dire che nei prossimi due anni avremo tutte le scuole con o nuove palestre, penso ad Urbino, a Pergola e la ristrutturazione di quelle esistenti. In particolare, visto che siamo a Pesaro, abbiamo inaugurato il Santa Marta, un'opera di oltre 120.000 euro, quindi un rifacimento quasi totale dal telo che ora ha performance maggiori per quanto riguarda il riscaldamento, tutto il nuovo impianto di riscaldamento e il fondo, quindi di fatto una nuova palestra. La stessa operazione la stiamo facendo al Cecchi, che termineremo fra una ventina di giorni e quindi è identica nel concetto, quindi è una tensostruttura rifatta completamente, anzi quella del Cecchi abbiamo fatto anche tutto il sottofondo nuovo e la sistemazione della parte esterna. Al liceo scientifico, il campo di palacanestro con tribune che è duplicato al campus anche al Mamiani e quello del Rossini l'abbiamo terminato l'anno scorso, nel liceo scientifico. Quello del Mamiani lo termineremo a breve. Anche al Mengaroni, lo spazio interno al Mengaroni, anzi al Perticari, nell'edificio che c'era quella corte, l'abbiamo con delle migliorie in un appalto per lavori di adeguamento sismico e di adeguamento degli spazi. Realizzeremo lì un piccolo campo da pallavolo, quindi anche i ragazzi del Perticari e del Mengaroni potranno avere questo spazio attrezzato per fare attività esterna. Il Morselli, nell'ambito della ristrutturazione, che ricordo il Morselli diventerà la prima scuola Enzeb della provincia di edifici esistenti. Quindi contiamo che entro il prossimo anno venga consegnata la scuola e quindi questo perigrinare, questa difficoltà che ha il Mamiani perché ha tantissimi studenti, con la messa in campo di questo nuovo edificio avremo un'ottima soluzione. Abbiamo trovato delle risorse, 330 mila euro, da aggiungere a quella dell'edificio principale per sistemare la palestra del Morselli. Questa è una palestra importantissima per la sua collocazione nel centro storico, quindi avere una palestra adeguata sismicamente, completamente nuova, della copertura, dell'impianto e del sottofondo, voi capite che è un'ottima lungimiranza e offerta che la provincia poi, dopo aver risolto i problemi della scuola, la lascia aperta alla collettività. Grazie. Grazie.